Musica Cominciamo a presentare il grandissimo Carmine Mirecki Aspettate! Partiamo dagli esordienti l'Inter prima volta a scarsare fuori prima finale workout Allora Con il numero 8 Ciro Pipul Desi Con il numero 99 Robocop Emanuele Casey Con il numero 9 Carmine Arigò Con il numero 11 Vincenzo Sciurè Cortese, con il numero 5, Vincenzo Letto Lucarelli, con il numero 21, Enrico Moccio Setto D'Angelo, con il numero 10, Antonio Caccio Barilla Indicatore, con il numero 88, Giro Pupo Marino, e con il numero 3, Antonio Odà Nesi. Passiamo adesso ai famosissimi ragazzi del Verona, con il numero 1, Lino Wattman Ruocco, con il numero 17, Dario Opiselle Mizzi, con il numero 11, Pippo Miro, Marino Calduto, con il numero 4, l'illusionista Antonio Pele, con il numero 6, Demme Giuseppe Pranzilli, con il numero 7, Milano Maraviglia, Emanuele Carillo, e con il numero 10, il terribile Dino Brillante, ragazzi in bocca al lupo e che venga il migliore. Grazie. Grazie. www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.